Con l'avvio della raccolta delle uve rosse, la vendemia è inoltre entrata nella fase più intensa e con essa sono scattati numerosi i controlli delle forze dell'ordine fra i filari. Sono stati segnalati i posti di blocco già in Valle Verse, in Valle Scuropasso, anche se al momento tutto sembrerebbe procedere senza particolari problemi. Ma mentre si raccoglie con il peso di una burocrazia asfissiante, come lamentato da diversi viticoltori, gli occhi delle aziende agricole sono puntati anche alla revisione dei disciplinari di produzione che proprio nelle scorse ore hanno fatto segnare un primo punto fermo. La regione ha infatti approvato la riduzione, di cui si parlava da tempo, in verità, delle rese di alcune uve. Si tratta in particolare del pino nero e del pino grigio IGT o a indicazione geografica tipica, che dall'anno prossimo scenderanno da 200 a 170 quintali all'ettaro. Un taglio troppo blando, secondo alcuni, visto che per produrre uve e vini d'occa la produzione massima per ettaro si aggira già attorno ai 100 quintali, ma comunque un segnale dopo i proclami della regione e dello Stato.